Cari telespettatori, rieccoci insieme, buona serata, ben arrivati anche i nostri ospiti, adesso ve li presenterò. Questa sera da un lato parliamo e vi spieghiamo come funziona l'insediamento della consulta che c'è stata nella regione del Veneto, quindi quali sono gli step, le fasi, consulta per l'autonomia, dall'altro invece acceniamo anche su vostre istanze richiesta alla legge di bilancio di stabilità, la legge finanziaria insomma che non è stata ancora approvata, che però è in fase di primi passaggi di approvazione poi ci sarà il consueto ITER, però giustamente se ne parla ben poco perché ci sono state altre vicende nazionali che hanno interessato i media, la comunicazione, ma giustamente i cittadini, gli imprenditori, le categorie produttive sono sempre un po' col fiato sospeso perché alcuni punti importanti sono stati accennati e non si sa mai come vada a finire. Per affrontare questo tema vi presento i nostri esperti, i nostri ospiti, ben ritornata senatrice Patrizia Visinella di Fare, grazie di essere qui con noi, ben arrivato Roberto Ciambetti presidente del consiglio regionale Lega Nord, grazie anche a lei, e ben ritornato Simone Borile, consigliere comunale Movimento 5 Stelle, grazie anche a lei, Samuel Scavazzin segretario territoriale CISL Veneto, Francesco Pontelli economista, e Nicola Romundo sempre economista, presidente cittadino, insomma un po' di competenze ce l'è anche lui. Prima di incominciare, come sempre, il nostro spazio dedicato alle pensioni e ai pensionati a mettere a posto i propri conti, quindi interrompiamo per pochi secondi con la nostra rubrica, con lo SPICGL, ma poi ritorniamo in studio e iniziamo ad approfondire i due temi.